Anticipazioni una vita. Domenica, 21 febbraio, 2021. Genoveva e Felipe prendono parte ad un bel pranzo di coppia. Tutti i vicini sono d'accordo nel notare che i due sono fatti per stare insieme. Emilio prova a tirare su di morale sinta, che continua ad incolparsi e teme di aver rovinato la vita artistica della mamma, che aveva lasciato in tutti un buon ricordo. Emilio prova a spronarla e a farle tornare la voglia di recitare. Finalmente Susana riappare e spiega di essere partita per pensare alla sua relazione e al suo futuro con Armando. Alla fine la sarta chiede ad Armando di accettare l'incarico che il re gli ha dato, anche se questo significa dirsi addio. Ursula continua a dare segnali di squilibrio e si introduce nella casa di Felipe per prendere le lettere di Telmo. Addirittura, la donna, minaccia Genoveva, scambiandola per Cayetana. Grazie a tutti.